Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami D.D. degli Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio con la controvoce di Emanuele98. E che certo, siamo anche in compagnia del nostro magico esperto, siete sminchiati? No dai, sul LOL esperto. Allora chi spiega un attimo che è sta partita? Ragazzi, la cosa figa è che mi state vedendo anche in webcam se tutto è andato come doveva andare. GG. l'amore il motore in stimoli in settimana allora il lavoro di vendizia massacro spacco devasto spacco devasto aiuto no aiuto spacco devasto cavolo spacco devasto oh ma perchè mi fanno tutto sto male o meglio di chiacchino ah ma il timo che mi sta massacrando da lontano ciao no no non ho fidato un bel niente ma guarda dopo di lui però fiddati io penso a far fidare il nemico ma questa è fortuna io sono fortuna io sono fortuna io mi continuo l'aname del re rovina no il cavolo posso continuare eh no non c'ho non c'ho soldi eh ragazzi è da tantissimo che non uso Jax vado a prenderlo io vado a prenderlo io si infatti infatti basto io raga mamma mia quanto fa male vai Jax spacco devasto spacco devasto vengo occhio occhio dietro occhio dietro eh mamma non ti vede ah 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 eh qui a destra è andato andiamo a prendere Riven insieme vieni vieni a prendere Riven ecco Riven oh my god non flash Riven mamma dove vai eh piano piano sto iniziando ad imparare come usare i vari personaggi hai visto? sono poco eh aiuto ce l'ho qui Riven cazzo eh eh ce ne abbiamo tre qui però vieni che Timo sta per morire ehi se vieni ce lo facciamo a questo ma questi qua sbaglio sono delle merde uniche si andiamo a invadere si andiamo a invadere vabbè pigliatelo eh ma che cazzo ti metto a favore dopo ti faccio vedere ma io faccio vedere se devi che cazzo non fa vedere ti faccio vedere o che abbiamo visto si perché allora quando ho preso il petalcare allora uno se lo prende gli stadi si nascondono di quanto c'è sfuglio vabbè lo spazio nel cazzo vengono a uccidere questo gli altri fanno un aperto scarato qua dentro si ma vabbè lo spazio ehi arriva? ti muore ma ti muore no no dove sono andato? dove sono andato? fatti Timo vedi che se viene da me Riven muore ma se arriva da me se rima da me guarda la non mi ha capito non no hai usato ragazzi hai usato la guarigione chi se ne frega però cavolo ti sei fatto la kill ti sei fatto la kill va bene così ma io ti ho portato dal culo si comunque sto giocando un po' troll non fa niente però mi sto divertendo vai che sta arrivando sto arrivando attiralo attiralo che mi nascondo nel brush no non ce la faccio no oh mio dio ho smicciato l'ultima e dopo ma che non apre ma ogni volta che cambio target ho la probabilità di stunnare o di fare un attacco critico no tu tu quando sarai meglio che caspita una volta ma che cosa no ma tu mamma io voglio lo farmi un po' ma io voglio lo farmi un po' ma io voglio lo farmi un po' ma io voglio lo farmi un po' no no ma io voglio lo farmi un po' 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 comunque ora che sto inizio ad usare il jungler vedi a fare gli agguati a gank perché perchè perché non ci fanno bo ma è sese pure top ragazzi ma è bravo ma vede è un po' mano per mano ma vado a prendere il portale oh lol 100.000 oh ma che cazzo dove stai vai 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 ragazzi poi mi faccio poi mi faccio le scarpe dopo il lama di re rovina mi faccio le scarpe oh mio dio vai falli venire falli venire gg 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 il massacro ragazzi mi vado a fare la farm sopra mi sta andando a fare la farm top non so che cacchio stanno facendo o comunque la e fa danno di gruppo anche lol cazzo eh uomo l'ho scoperto quelli sono le scoperte di lol che io faccio eh mica che cazzo mi sa che qui si qua che non andate otto l'amore non c'è chi ci sono andate otto che si qua è a te li sono andati otto l'amore no stanno e che sono navi secondo me stanno rosicando e litigando no 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 mamma 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 intanto stanno farmando botto mamma e mamma faccio la torre mammi mi grazie 6 uomo e puro rip come ật in st si stanno prendendo il portale vado a prendere il nostro portale, il nostro portale già ce l'abbiamo vai 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 con river massacralo comunque pusciamo top ragazzi dai dai facciamoci sta torre no 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 eh lo so se mi ingaggia crepa oh ma ci possiamo fottere il loro portale vieni qua vieni qua ma chi è che si è preso la kill? che cos'è che vuoi fare? aspetta mi vado a prendere la via anzi vado a fare il gank bot aspetta 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 mi fotto pure il portale passando si è stato loll e dov'è timo? scusa non è bot timo l'ho ucciso ah avevo letto che ti aveva ucciso e ti ho detto che potremmo prenderlo no l'ho ucciso vieni 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 si donna vieni si donna vieni si donna vieni preso non ci credo vai farlo ingaggiare guarda farlo ingaggiare amici vieni vieni nello visto l'ho visto vieni 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 ma che lo voglio le mie romanzo eccoci due eh ho visto ma parla se non mi in grifo ah... andiamo top andiamo top ma si ma che ci frega ma poi è vero è vero tanto cosa si infatti cioè non ho capito vai, spacco devasto, spacco devasto distruzione spacco devasto quelli mo difendono bot e noi gli spacchiamo la torre focusate la veloce che la facciamo via oh mio dio non ci credo era morta la torre zolla gg gg ci facciamo pure l'inibitore ma morite tutti ragazzi ma è possibile che si infatti ma è possibile che devo carriare sempre la partita no via 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 che sennò ci vengono a killare eccoli chi è che ha ingaggiato e no mi vado a prendere un oggetto che cosa mi prendo lomen randwin e ormai ho preso questa dai ormai fa niente ma se resta l'inibitore si ma pensavo solo pensavo solo inizio partita mannaggia vabbè perché questi qua sono nabili se non sai quante botte prendevamo vedi che stanno vedi che ci stanno gancando SS top andiamo andiamo giustamente giustamente sei un pro massacriamoli ce lo possiamo fare noi noi non l'abbiamo mai fatto dai facciamocelo tanto questi sono nabili non lo conoscono che sta il ragno nooo devi essere solo veramente così non sai che non sei ragno in un momento mangi perché ti danni tu ok andiamo in guarda guardiamo che cosa ti da il ragno la salute e il mana di questa unità ma si si generano a questo campione velocità attaccamentata e riduzione di carica lol siamo qui si ci ho più tutto guarda questo tipo morto oh goddio chissati sono morto sono morto eh io pure sono morto vabbè lol 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 non 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 spaccate la torre vi dico quando rigenerano via 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 ragazzi fate la torre via 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 ammazzano sono spawnati lol come cazzo fanno una ucciderti scusa lol e manco ti focusati no no ragazzi gg per questa splendida mi sono divertito troppo in sta partita ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi bella